Ipotizziamo un lavoratore a tempo indeterminato che accumula 25 anni di contributi, circa 2000 euro l'ordi al mese di retribuzione. Quale sarà il montante della sua pensione? Sì, questo è un caso tipo molto reale. Un giovane che non avrà una carriera lavorativa continuativa ma sarà interrotta da periodi di non lavoro. Quindi il caso di 2000 euro al mese circa e 25 anni di contributi alla fine della sua carriera genereranno una pensione di circa 13.300 euro l'ordi che significa avere il 46% di tasso di sostituzione. Vale a dire che rispetto a quando lavorava lui andrà a percepire una pensione che ammonta al 46% della sua retribuzione da lavoratore attivo. Quindi stiamo parlando di tasse di sostituzione molto bassi perché 13.300 euro non farai una vita dignitosa. Facciamo un'altra simulazione. Un lavoratore parasubordinato, il classico Cocco Pro, che andrà in pensione dopo una carriera di 36 anni partendo da uno stipendio mensile di circa 1.000 euro per finire a 2.500 euro l'ordi mensili. Quale sarà la sua aspettativa di pensione? Sì, questo è il caso di chi prende circa 1.000 euro ad inizio attività e finisce la sua carriera dopo circa 40 anni a 2.500 euro mese. Lui avrà ragionevolmente una pensione che si aggira circa 8.300 euro l'anno, che sono, attenzione, lordi, con un tasso di sostituzione del 39%. Sono 800 euro l'ordi al mese. Spalmati su 13 mensilità e al netto sono anche 700 forse? Eh sì, poco più dell'assegno sociale perché poi queste sono cifre dove mettono veramente in paragone tra quello che ha lavorato, che andrà a prendere una pensione bassa e chi non ha mai lavorato, che con l'assegno sociale percepirà un'indennità molto simile a quella pensione. Quindi a quel punto il lavoratore può dire ma a me di lavorare chi me lo fa fare? Tanto vale aspettare l'assegno sociale. Un altro esempio di un lavoratore che comincia la sua carriera da parasubordinato per finire con un tempo indeterminato, partendo da un lordo mensile di circa 800 per finire a 2.500 euro lordi mensili. Quale aspettativa ha di pensione? Se ho continuità di lavoro, ed è una fortuna in questo periodo avere continuità di lavoro, la mia pensione sarà di circa 13.500 euro l'anno, quindi poco più di 1.000 euro al mese, 1.100, 1.150 e il tasso di sostituzione è del 45%. Considerate che i nostri padri sono andati in pensione con un tasso di sostituzione dell'80%. Grazie per la visione!